Arrivano dalla regione i bonus occupazionali per incentivare le aziende ad assumere personale in Sardegna. I bonus, annunciati con l'avviso nel sito regionale, fanno parte del programma TVB Sardegna Lavoro, orientamento e rafforzamento delle competenze e occupazione. Gli incentivi agiscono sul taglio del costo del lavoro e vanno richiesti dalle aziende seguendo le linee guida e la modulistica sul sito web www.sardegnalavoro.it. La misura dei bonus individuata nel programma è un'ottima opportunità rivolta alle aziende per rilanciare l'impresa sarda e favorire l'occupazione nel nostro territorio, ha commentato l'assessore regionale del lavoro e formazione Alessandra Zedda. L'impegno della regione è incentrato a sostenere e incentivare le imprese che assumono giovani e disoccupati e dare un forte impulso al mercato del lavoro, ha concluso l'esponente della giunta Solinas. L'aiuto è rivolto alle imprese private con almeno una sede operativa nel territorio della regione Sardegna che assumono a tempo pieno o parziale a partire dal 1 ottobre 2019 e fino al 1 gennaio 2022 giovani di età inferiore ai 35 anni, disoccupati con l'età superiore ai 35 anni e donne di età superiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata pari a 12 mesi. Le domande a sportello possono essere presentate sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall'amministrazione regionale, mentre le informazioni e gli adempimenti connessi per le imprese che presentano le istanze si trovano nell'area riservata.